Perché con tanti temi che avresti potuto trattare a Sanremo, parlandoci per esempio di cinema dove tanto di cappello, hai voluto parlare di quello che meno ti appartiene, prendendo deliberatamente per il culo gli italiani, la Costituzione. Ma proprio tu, caro Beninni, nel 2016, appoggiando la riforma voluta da Renzi, l'avresti volentieri stuprata quella Costituzione. E oggi sei su un palco dove volevano ospitare Zelensky e non è speso una sola parola per dire che la nostra Costituzione sancisce chiaro e tondo che l'Italia ripudia la guerra. Ripeto, l'Italia ripudia la guerra, non l'alimenta, mandando armi e diventando co-beligeranti. Abbiamo trascorso due anni quelli della pandemia in cui sono stati stravolti quasi tutti i più basilari principi sanciti nella nostra Costituzione. E tu non hai speso una sola parola. In precedenza avevamo avuto anni di governi tecnici che hanno commissariato il nostro paese. Un paese commissariato dalla finanza internazionale, che ha deriso quello che è il primo articolo della Costituzione, che sancisce che la sovranità appartiene al popolo. E tu, caro Benigni, dov'eri? Hai detto che la Costituzione canta la libertà e la dignità dell'uomo. Perché non te ne sei ricordato quando la libertà ce l'hanno torta, con dei DPCM che nulla hanno a che vedere con i principi sanciti dalla Costituzione? Quando a molti lavoratori, medici compresi, che la pensavano in maniera diversa da altri, su cosa fosse giusto o non fosse giusto, sul proprio corpo, quella dignità l'hanno tolta, impedendogli di andare al lavoro, di salire su un bus, su un treno, lasciandoli fuori dai cinema, dai teatri, come ai tempi dell'apartheid. Tutto è il contrario di quello che è previsto dalla Costituzione. E tu, Benigni, dov'eri? E tutto questo veniva fatto tradendo impunemente la libertà di cui tu parli e i principi della Costituzione a cui fai riferimento. Ma tu dov'eri? Allora, è vero, caro Benigni, la Costituzione, come dici tu, ha una pagina bianca dove tutti dovremmo riscrivere qualcosa. Ma l'ultima pagina, l'hanno lasciata bianca, è una pagina bianca, la più importante. Quindi non c'è assolutamente nulla da aggiungere. Ci sono cose, però, che vanno ribadite, perché sono state dimenticate proprio da quelli come te. Per esempio, su quella pagina bianca andrebbe ribadito a chiare lettere che la sovranità appartiene al popolo, che l'Italia ripudia la guerra e che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario. Questo va ribadito a lettere cubitali su quella pagina bianca per fare in modo che quelli come te non si permettano mai più di stuprarla.